Torna la pioggia e torna anche il rischio frane. Come sempre il versante più esposto agli allagamenti resta l'area del Montorese. Fango e Pietrisco sono venuti giù dal Monte Salto. Nella tarda serata di ieri, quattro le famiglie bloccate in casa in via Parrelle, Frazione Piano. Chiusa per allagamento anche la strada provinciale dei due principati, dove un'autovettura è rimasta bloccata dalla colata di fango. Solo tanta paura per il conducente, mentre l'auto è stata recuperata dai soccorritori. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, è arrivato subito il sindaco di Montoro, Mario Bianchino, per verificare di persona i danni. Passata la paura della notte, si prova a tornare lentamente alla normalità. Le operazioni di rimozione dei detriti continuano senza sosta. Questa mattina sono arrivate sul posto anche due squadre del genio civile di Avellino. E' pensare che la pioggia intensa è durata solo 15 minuti, ma il terreno è fragile. A Montoro, come in altre zone dell'Irpinia. Gli incendi di questa estate hanno minato la tenuta del patrimonio boschivo, che ora non riesce a frenare l'avanzata del fango. La conferma arriva proprio dal genio civile. La colata detritica contiene pietrame, fango e materiale risalente alle combustioni di questa estate. C'è il rischio concreto, dunque, che quanto accaduto ieri a Montoro sia solo l'inizio. Lo stato di allerta è massima. Allagamenti si segnalano anche in altre zone dell'Irpinia. Disaggi in queste ore si registrano infine sul raccordo Avellino-Salerno.